Ciao a tutti, buona giornata! Godiamoci oggi con una tazza di tè vicino alle finestre. Forse è una buona giornata. E oggi è giovedì 14 ottobre 2021. Che presagiai oggi? Scopriamolo insieme per sapere. Oroscopo Capricorno? Tutti sotto scacco con la luna per amica? Nettuno fantasioso vi tiene bordone, Marte allo Zenit invece vi infastidisce, ma coi vostri inquilini Luna e Plutone ormai divenuti amici, siete voi a tenere tutti sotto scacco, incluso il vostro capo che abbaia ma non morde. Pochi amici sui quali contare, ma coi pochi davvero affidabili, potete condividere parte delle responsabilità a chi da soli non riuscite più a gestire. Il ritorno di una persona cara rimette in gioco sentimenti creduti sepolti, sotto il ghiaccio la vita si conserva per millenni. E il cuore anche, meglio di un dinosauro, e viva la paleontologia. La coppia è aiutata dall'armonia che c'è nell'ambiente circostante in cui vive. Potrebbe essere anche l'opportunità di nuove amicizie e di nuovi incontri proprio nell'ambiente di lavoro o in cui si vive. I singli incontreranno persone interessanti proprio nell'ambiente in cui vivono o lavorano, anche l'anima gemella. Non sottovalutate quello che accadrà oggi, soprattutto in amore, potrebbe essere la premessa a un nuovo mondo che si affaccia nella vostra vita. Se vi sentite soli, provate a uscire in compagnia e che sia. Buona. Non lasciatevi distrarre dalle mancate opportunità, piuttosto cercate di concentrarvi su quelle attuali, in questo modo potreste sfruttarla pieno. Pettegolezzi sul vostro conto, vi siete esposti troppo negli ultimi tempi facendovi bersagliare di critiche e giudizi inopportuni. Tenete un profilo basso. Se non imparate ad ascoltare il prossimo, difficilmente riuscirete a capirlo. Siate aperti e disponibili evitando, soprattutto oggi, di chiudervi a riccio in voi stessi e cercare solo soluzioni ai vostri problemi. Grandi opportunità per single, fate solo attenzione che le persone che avete conosciuto da poco potranno essere già con il cuore impegnato. Vi conviene rischiare? Se vi sentite stanchi è solo perché il periodo che avete attraversato è stato costellato di dubbi e incertezze, è ora che siate più positivi. La tua gelosia potrà fare allontanare una persona alla quale tieni molto. Oggi potreste aver bisogno di tutta la vostra abilità nello sfruttare delle situazioni a voi favorevoli che Giove porterà nella vostra giornata. Marte si esprime oggi in tutta la sua potenza, attenti a non litigare con qualcuno per eccesso di nervosismo. Anche se siete orgogliosi, chiedere aiuto ogni tanto non vi fa sembrare meno forti o meno capaci. Fate un passo nel passato e cercate le ragioni di risentimenti o rancore, o addirittura rotture, per meglio capire cosa vada cambiato e cosa migliorato in futuro. Siate sempre professionali senza adulare troppo, non siate rivoluzionari ma nemmeno dei sudditi.La prima impressione è sempre la più importante, ma non sempre è quella più corretta. Smettetela con i giri di parole, altrimenti vi limiterete professionalmente ed anche nei rapporti con le persone. Il cielo si illumina sempre di più per voi e vi prepara verso un significativo cambiamento di orizzonti. Oltre alla felice posizione di Urano, specie se appartenete alla seconda decade, che stimola in voi pensieri e progetti da condividere con chi più stimate, ci sono anche Venere e Luna benefici e positivi ad animare piacevolmente le vostre giornate regalandovi buon gusto, arguzia, umorismo e serenità. Mercurio, Marte, sole in bilancia invece possono rendervi nervosi, ma è solo un momento. Se la stella del nostro sistema planetario può avervi creato qualche piccolo disturbo e forse lievi discussioni in famiglia, recupererete la vostra energia psicofisica attraverso il riposo notturno. In serata ogni nube in temperanza si sarà allontanata. Situazione ancora neutrale per l'amore. Le amicizie che nascono in questo periodo potranno diventare qualcosa di più. Un problema improvviso riguardante l'abitazione vi potrebbe costringere a una spesa imprevista. Non importa se chi ti sta intorno ti sbarra la strada perché senti di poter abbattere qualsiasi barriera. Sei sotto l'ala protettiva della grazia della speranza e del senso pratico. Fai quello che ti riesce meglio, usa la fantasia immagina che il successo sia già arrivato, questo ti darà l'impulso per raggiungerlo davvero. Lavate via dalla vostra coscienza alcuni comportamenti, giustificandoli con il fatto che vi impegnate molto in tutto quello che fate che ogni tanto, vi è concesso un colpo di testa. Sì e no. Non si può fare troppo affidamento su se stessi e su ciò che si riesce a fare da soli, altrimenti è così che vi lasceranno, soli, perché bastate a voi stessi. Non sconfinate nella presunzione dunque, perché non vi piacerebbe quello che troverete. Feroce quadratura tra la coppia Luna-Plutone e Marte, ecco il babau di questa giornata, consolata almeno in parte dal se stile di Netuno, che come alternativa ai guai vi offre una fuga sul tappeto volante del sogno. Risultato, tensioni sul lavoro e mal di testa da stress. Ma a casa tranquilli, in compagnia di pochi intimi e dei vostri adorati dischi recuperate lentamente equilibrio. Amore ed Eros, l'ipersensibilità vi rende permalosi, basta un non nulla aggraffiarvi il cuore, vi sticci di poco conto, in coppia siete voi i dominanti e se qualcosa vi urta oggi Dante subito in escandescenze. Pochi amici ma buoni coi quali condividere interessi e passioni, vi scambiate libri per confrontare le rispettive opinioni sull'argomento. L'attuale allenamento dei pianeti rende la tua relazione un'avventura epica, e tale odissea potrebbe apportare alcuni cambiamenti nella tua vita. Nulla che non valga la pena tentare. Venere e Giove vi sorridono e allora approfittate per assaporare, e intensamente, tutti gli attimi di questa bella stagione di corrispondenza emotiva col vostro amore. L'eros è in uno stato di grazia, specie se siete nati nella seconda decade. Lavoro e denaro, la vostra insofferenza trapela dai lineamenti tirati, non sopportate sottostare a ordini ingiusti solo perché piovono dall'alto. Scarsa coesione coi colleghi, solidarietà nel vostro gruppo è un vocabolo ancora da inventare. Oggi si presenteranno opportunità fantastiche. Pensate in grande. Farete molto meglio di quanto possiate immaginare. Se farete un colloquio di lavoro, chiedete uno stipendio più alto di quello che avreste potuto fare in passato. Le stelle sono dalla vostra parte. Saturno, uno dei numi tutelari del Capricorno, è al vostro fianco dal buon vicino Aquario e il lavoro va a gonfie vele. I tempi e i modi sono ben impiegati, c'è il riscontro di stima dei colleghi. Solo se appartenete all'ultima decade del segno dovrete congelare qualche iniziativa che avevate messo nel cassetto. Bene essere, tempi e che pulzano, sensazioni di calore alla faccia e magari anche il cuore che batte troppo in fretta, tutti sintomi da pressione alta, un rialzo determinato dallo stress. Potreste lamentare un leggero malessere o una sensazione di spossatezza. Investite le vostre forze positivamente senza farvi destabilizzare. Tenete in equilibrio energia consumata e i momenti di riposo. Per lei, invece di pensare al lavoro la mente si concentra su una storia appassionata, forse una sop-opera, o forse la vostra realtà. Felici e soddisfatte, ma occhio a non giocarvi il posto. Per lui, prudenza al volante, anche se da ragazzini guidavate una testa rossa, allora andava a pedali, ma l'attuale no. Inoltre non siete a Imola ma su una trafficatissima tangenziale. Colore delle emozioni, rosso Ferrari. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.